C'è chi chiede di frazionare la spesa pensando che avere più ricevute di pagamento corrisponda a più estrazioni e chi invece la lotteria degli scontrini non sa proprio cosa sia. E così finisce che il popolo dei consumatori si divida in due gruppi che spesso confondono le modalità di partecipazione al cashback e quelle della lotteria degli scontrini, due strumenti messi a disposizione dal governo per incentivare i pagamenti elettronici e sconfiggere il nero e l'evasione fiscale. Intanto si avvicina l'11 marzo, prima finestra utile per procedere alla prima estrazione della lotteria degli scontrini che premierà i consumatori più fortunati in questa prima fase di avvio del programma Italia Cashless. Per fare un po' di chiarezza ci siamo rivolti all'esperto, il commercialista Luca Del Federico. Gli strumenti seppur simili sono diversi perché il cashback riconosce un ristorno sulla spesa che viene effettuata sulla base di determinati parametri, invece la lotteria degli scontrini. Un premio che viene riconosciuto poi su un'estrazione in relazione a determinati acquisti che vanno a formalizzare un cosiddetto biglietto che andrà a essere sorteggiato. La prima finestra sarà nel prossimo mese di marzo per gli acquisti effettuati nel mese di febbraio. C'è da dire che mentre con il cashback più operazioni si fanno, più si sale in questa classifica virtuale, con la lotteria degli scontrini non è necessario spacchettare i pagamenti? No, assolutamente, tanti meccanismi sono completamente diversi. Abbiamo un massimo di mille biglietti su ogni acquisto, vuol dire che se per assurdo dovessi fare un acquisto di 1500 euro non posso superare i mille biglietti. Immaginiamoci una spesa di 100 euro sarebbero 100 biglietti per partecipare alla lotteria. Per gli esercenti c'è il vantaggio soprattutto di avere un maggiore incentivo da parte del consumatore a spendere e quindi a volte anche di non rinviare un acquisto. I punti di partenza sono interessanti, però io credo che ad oggi siano un po' un flop, nel senso non generalizzato, ma sulla lotteria degli scontrini non tutti gli esercenti si sono adeguati perché il registratore di cassa deve essere adeguato alle nuove modalità di emissione perché viene rilasciato un codice alfanumerico e quindi lo scontrino deve riportare questo codice per poi partecipare alla lotteria.